Si chiamava Tang Lu, era un personaggio, un uomo cinese il quale è stato giustiziato di recente perché avrebbe fatto fuori la moglie che era un influencer, le avrebbe dato fuoco durante una diretta negli diversi social. Le ustioni piuttosto importanti hanno portato la donna alla morte pochi giorni dopo. Sabato 16 è stato giustiziato con sui secondo le leggi o nell'ordinamento cinese dopo l'ok del tribunale della prefettura di Ngawa e Kuiang. La donna era tra un'altra interna e era molto conosciuta nel suo vlog, il nome d'arte era Lamo. Il suo è diventato un caso mediatico in piena regola e addirittura su Twitter un hashtag è diventato virale proprio sul web. L'uomo Tang Lu e Maito è stato, diciamo così, giustiziato di recente e chiede fuoco alla compagna nel settembre del 2020. Insomma, per farvela breve, questo è un caso di cronaca nera che ha letteralmente lasciato strascidi, o meglio, shock in scena. Durante la diretta social, infatti, l'uomo l'ha piccato le fiato e l'ha fatta a cuore. Da Andaro, tu di Daniele è tutto, il video di Daniele è qua, Lamo, che tu possa riposare in pace. A prossimo, grazie a tutti.